Brillano le stelle sopra di sé Il fascino e il tuo stile cresceranno di più Minnie and you Ciao ragazzi, mi sono iscritta al corso di nuoto a scuola Men sana in corpo resano Mi hanno dato questa borsa per portare il necessario Visto che tutti hanno la stessa borsa ho deciso di personalizzare la mia E sapete come? Con le spille ispirate a Minnie Carine, vero? Vedrete quanto è facile farle Abbiamo bisogno di smalto per unghie Carton feltro Carta adesiva Immagini che trovate su disneychannel.it Ago e filo Matita bianca Moneta da 50 centesimi o un bottone Spille da baglia E dei tappi di bottiglia Iniziamo a colorare i tappi con lo smalto per unghie Prima di ritagliare le immagini trovate su disneychannel.it Prendiamo il foglio e attacchiamo sul retro La carta adesiva Ora incolliamo l'immagine sul tappo Poi disegniamo un cerchio con la matita bianca sul carton feltro usando la moneta oppure il bottone Adesso dobbiamo cucire la spilla E per ultimo attacchiamo il feltro al tappo Guardate il risultato finale Bella, vero? Vanno bene anche su altre borse e poi potete farne diversi modelli Se vi sono piaciute troverete tutte le istruzioni su disneychannel.it Alla prossima ragazze!